Perché vediamo sotto gli occhi di tutti che purtroppo tutte le battaglie che stiamo portando avanti a livello anche giudiziario nazionale e internazionale fanno molta fatica ad andare avanti, fanno molta fatica perché c'è troppa umiltà, c'è troppo silenzio e c'è troppo condizionamento. E quindi abbiamo pensato di costituire appunto questo gran giurì che ha l'ambizione poi di porsi a livello anche sovranazionale per raccogliere quelle prove che ci vorranno comunicare e offrire i cittadini e per poter fare un'analisi oggettiva documentata, quindi pubblica, accessibile a tutti sia delle situazioni che sono state subite dai cittadini e sia per poter raccogliere le testimonianze di esperti che possano fare una loro valutazione su come è stata gestita la pandemia in questi tre anni.